Musica 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 Prematori ai vostri posti! Comandante assente! Siete liberi fino al nuovo ordine! Piano piano! Ti aspettiamo comandante! Qualche novità? Ho trovato questo bracciale e parecchi maiali Ho una spiegazione Era Dileda che è stata trasformata in un maiale da Circe Quando è tornata ad essere una bella donna l'ha donato a Circe in suo ricordo Hai ragione come sempre vecchio amico Significa che presto troveremo Leda Credo Credi bene! Gli dèi non mentono mai A parte Dolo e Apate Ma non pensiamo a loro Nella grotta c'era un uomo Aveva queste spezie con sé Ah la mia Leda Credi che l'uomo che hai trovato fosse un ciclope E che lei abbia preparato un elisir con queste spezie Per fargli crescere un secondo occhio Barnaba Sua nafi non c'erano più ciclopi di quanti ce ne siano a Cefalonia Abbi fede amico mio Leda è stata lì Hai detto Persephone mi ha mostrato Se Leda è viva la troverò Grazie Ma noi C'è un giro UnIndia Quasi Quasi Grazie.